ah te l'ho fermata in tempo so mannaggia mannaggia no seriamente ragazzi stasera io stasera mi sono ridotto a generare in live vabbè poi vi spiego dai un po' di un po' di più eccom'è qua ciao nonna ma come ciao nonna perché allora per correttezza aspetto che Fischi prima di spammarti smetti di mangiare vabbè faccio vedere con precisione che ho letteralmente minestra stasera sto girando adesso sul serio non è uno scherzo ciao Teo buonasera come stai anche tu allora se vuoi vengo in discord dimmi tu ehi ula la ehi bufi grazie per la sub ben ritornato ben risambato come stai allora aspettate devo prendere il penarello per aggiornare la sub di Buffy nell'elenco grazie per il tuo supporto come stai come stai porco giuda da ora mi casco allora bene bene palestra no come vix sul divano ecco hai visto allora a loro a loro Iniziamo già bene la live di resto, già fa casini, porca miseria! Questa è la porchetta, non vale come annaggia! Beh, stasera penso che poi riaggiornerò tutti i... Beh, dopo li sistemo con calma, faccio una cosa più carina! Oppela! Eccomi qua! Allora... Un secondo che mi devo... Sedere in modo corretto! Allora, eccomi qua! Eh... Bene, un po' di lavoro in esterno oggi poi, e se comincia il freddo però... Eh sì, Teo, confermo! Io oggi, come mi sono tirata via le coperte dal letto, ho sentito il cambio di... Di clima, ho detto... Ma perché non posso restare a letto stamattina sotto le coperte? Che sto meglio! Eh... Purtroppo mi tocca andare giù ogni mattina, per fare un po' di colazione o mangiare mi tocca andare giù! Eh... Mannaggia, mannaggia! Allora... Cosa ragioniamo a Valorant? Io Valorant l'ho provato una volta anni fa... Forse è sempre in live, mi sa! Sì, sempre in live, ma... Quando l'ho sottoscritta, faceva live con una maschera di un teschio stampato con la stampante 3D Però poi ho mollato perché... Eh... Mi sono trovata che a giocare da sola me... Diciamo, mi annoiavo! Magari, giocandoci in compagnia è diverso! Un po' come con Fortnite, no? Che è successo? Eeeh... Vix per caso ha scritto qualcosa a lei? Che lei è buona subito! Eh... Da una parte è meglio così, così non viene a... Allora... Che te la fai in un angolo? Sei in live in tutta la palestra, anche se poca gente! Eh... Che senso bufi sono in live in tutta la palestra? Scusa! Allora... Da soli è ingiocabile! Io non ne... Che mi annoio da solo, ma sono solo bestemmi! Eeeh... Allora, io lo so Mus... Secondo me per certi giochi ho bisogno di giocarci in compagnia! Almeno parlo per me! Perché alcuni giochi se ci gioco da solo, dopo un po' mi scoccio e li lascio la! Eeeh... Sera sono veramente come i vecchietti! Minestrina! Oh ragazzi, comunque vi confermo che anche qua il freddo si comincia a fare ancora più forte! Stamattina non se ne... Beh, veramente me ne stavo a letto! Allora... Niente, lascia fare o no, lascia stare! Ok, vabbè Vix, ti lascio fare! Hai fatto una prevenzione dai, meglio così! Anche se... Potrebbe sempre farsi un secondo profilo, eh! Falso! Eeeh... Venire a rompere le scatole! Però speriamo di no! Eeeh... Ma io in casa sto quasi in maglietta in realtà di giorno! Mettere il naso fuori è un'altra storia! Vabbè! Ma qua oggi, onestamente, è talmente aumentato il freddo... Che... Che dovevano fare dei lavori qua in casa il signor Killer e suo papà! Ma hanno visto che era troppo freddo più della storia e l'hanno lasciato stare tutto! Io oggi neanche riuscivo a stare fuori, sinceramente! Nuovi utenti? Dai, scherzo come sempre! Vai tranquillo Buffy! No, è... È una ragazza che ha banato Vix che è meglio così perché crea solo problemi! È un... Come direbbe Vix, è un trollino! Quindi... Allora... No, sti tipi di giochi competitivi sono da gruppo, semplicemente! Se non ce l'hai non vai avanti e manco ti diverti! Però posso dire una cosa! Su Valorant Asomus ho trovato un personaggino che esteticamente mi ispira! Forse perché sembra un po' tutto dark! Eh... Cos'è la ombra, tipo, ho visto che si chiama, non lo so! Ok! Ma comunque vi chiedo scusa che stasera è così! Va bene Vix, poi mi spiega in privato se è successo qualcosa! Che magari non so! Io invece, onestamente, dai, oggi stavo guardando una... Una di quelle stupette... Come cazzo si chiama? Oddio, della De Longhi era, ovviamente! Ma è una stupetta che è... Aspetta... Ho un nome particolare... Termoconvettore! È un termoconvettore chiamato, penso... Elettrico! Su Amazon... Dice che dovrebbe scaldare 60 metri quadri, però... Ma guarda, le recensioni, le recensioni sono tutte positive, quindi in teoria ho detto forse... Ehm... No dai Vix, per favore, devo anche cenare, che cazzo! Termo porcone non so se esiste come termine, però vabbè, lo aspettiamo! Allora, intanto avvio il gioco, va! Ehm... Dov'è? Qua! Ma non so, su Amazon c'è scritto che è a basso consumo, quindi in teoria... Non dovrebbe consumare tanto! Però... Non ho ancora capito la... La categoria elettronica quale è, perché non c'è scritto! Eh... Sto provando a capire qual è... Se l'ha, la bio... Però... Dovrebbe scaldare 60 metri quadri... Ora, ovviamente, avendo gatti in casa, mi toccherebbe stagli... Stagli dietro... Perché... Ehm... Allora... Aspettate che... Devo... Vediamo se me lo consente... Vediamo se me lo consente... Yeah, boy! Allora... Beh, comunque le bollette sì che sono un po' aumentate, quello è vero, perché... Beh, ok, se sta caricando il gioco... Ehm... Beh, funzionare se è potente funziona, ma di solo queste cose consumano un botto... Eh... Adesso vedrò, Teo... Vedrò di vedere e di capire qual è sta categoria elettronica che ha... Perché... Ho bisogno di saperlo, anch'io, sì... Perché se poi mi scrivono... Basso consumo, ma poi dopo c'è una categoria elettronica che mi consuma un botto... Non mi evade... E anche noi vogliamo cercare di risparmiare un po' in bollette... Non arriva a cifroni... Ciao Luxisferro... Sì... Ho letto bene... Benvenuto, grazie per il follow... Come stai? Aspetta... Allora, un attimo che abbasso la musica qua del gioco perché... Come era qua... Ok, impostazioni... La musica mi è un po' troppo... Ok, tolgo la musica nostra... Ok... Tolgo la musica nostra... Ok... Eh... Un secondo che vi leggo perché ho perso qualche commento... O meglio, li stavo leggendo... Allora... Ho sentito che i piedi della storia con un falò all'interno stanno... Ah... Eh... Non... Non c'è presente... Ciao... Eh... Xe... Ti leggo Xe perché non sto a leggere la prima parte del nome... Sono sincera... Lo consente... Perché con quel coso oltretutto ti tocca tenere tutte le porte aperte... Eh... Si... Eh... Quello è il mio problema Teo... Quello è il mio problema Teo... Quello è il mio problema Teo... Quei cattico... Si... No... Potete mandarmi a fanculo tranquillamente... Allora io adesso vi spiego anche il perché sto finita... Perché l'ho messa tra le torture delle scelte... Come tortura l'ho aggiunta... Quindi... Vabbè... Bufila riscattata e lo accontentiamo... Ti stavo dicendo Teo... Allora... Il mio problema quel gatto è proprio quello... Se stanno quelle porte aperte devo stargli a controllare... Perché non posso aprire con loro... Cioè non posso lasciare con loro aperto la porta di entrata di casa... Perché abbiamo il cane giù... Che non è tanto... Confidenziale con loro... E non mi voglio rischiare niente quindi... E poi mi entrano insetti... Mi rompo i coglioni... E lasciamo stare... Poi c'ho già la piccolina che è una peste... Che se c'è occasione di andare da qualche altra parte mi butta tutto giù... E allora... Mi tocca stargli dietro se anche lo dovessi accendere... Quelle porte aperte dove stanno in mezzo all'entrata... A controllare dove vanno... Come minimo... Io ho stanze dove non li faccio mai entrare i gatti... O mai ve ne faccio entrare solo uno... Quella grande... Perché sennò quella piccola mi distrugge tutto... Ehm... Ehm... Somos l'ha riscattato bufi il joypad... Quindi... E' così... Bellissimo... E' bellissimo perché risponde seriamente ai palesi trollate... Ehm... 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 Lo so, Samus, però Buffy l'ha riscattata, quindi rispetto alla sua scelta E' più avvantaggiata Vediamo Comunque se avete la centrale ci sono caldaie che appellate che si rilacciano ad un impianto esistente per scaldare l'acqua Allora, a noi qua il problema è Tanto, Samus, dimmi come ti chiami sul gioco, così ti aggiungo Perché sicuramente non ti ho qua Guarda, mi sa che qua io non ho proprio nessuno Eh sì, mi devi dire come ti chiami su... Allora, qua il nostro problema di questa casa è che i suoi giusti hanno la stufa che ti ho detto Che ci puoi anche cucinare, che c'è anche il piano cottura Che è stufa a legno Ma noi qua però abbiamo la casa che è piccolina E non abbiamo modo di mettere una stufa di quelle a pellet col tubo che devi fare E' un casino E quindi Va bene, dai stasera sono torturata E quindi sì, qua Ok, aspetta che ti aggiungo allora Allora Sì, Vix, c'hai ragione Aspetta che aggiungo intanto Samus Ok 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 Dovrebbe essere arrivata l'amicizia Dovrebbe essere là che si fa Spero di aver fatto giusto Perfetto Allora Non c'è un impianto esistente Non lo so Non lo so Teo Dovrei chiedere Dovrei chiedere perché non lo so La roba coi punti l'ho mandata per trollarti Non so cosa E' per trollarmi Questa che mi sono aperta Eh, c'è sul telefono Mi sa che adesso non riesco a vedere Se me le mandano su Whatsapp Sì Ma se me le mandano su Telegram E' un problema Perché ho tirato il telefono a caricare Allora No, qua non c'è niente A parte il messaggio di prima Eh, allora Allora Qua su Whatsapp non mi hai mandato niente Io Telegram qua non ce l'ho Sul computer adesso Quindi mi è un po' difficile Però dopo mi informo Oh, che buona cena che ha detto Se ci sei ancora Madonna Me l'ho svolto Aspettate che qua Mi ha spostato tutto Allora, facciamo che Metto qua che è meglio A posto No Cosa importantissima Che non ho fatto Stasera sto a fare disastri Scusate Ok Mi sta divertendo Questo è un alert Allora La roba a quei punti L'ho mandata per tolarti Non so Ok Però là su Whatsapp Adesso non ho visto niente Quindi se me l'hai mandata Ad altre parti Dovrò vedere dopo Con calma Maremma Non so Mi sa che non si può neanche Usare veramente Col joystick qua Possibile Eh sì Mi sa che non c'è possibilità Usare il joystick qua E quindi Per niente L'ho Pia Buffi Ti chiedo scusa Mi sa che non posso Rispettarla Sta cosa Allora Ecco Dov'è Questo Dicevo che mi piace Oh man Mi ispira Eh Ho guardato adesso Samus Non mi sembra Che ci sia la possibilità Forse a meno Che non vado Nell'impostare Il vario Il tipo Il singolo comando Ma Eh Allora Questo qua Mi ispira Come personaggio Vedi bene Le abilità Se possono piacerti Eh Quello Lo devo capire Però questo qua Mi sa che si sbloccherà Col tempo Man mano che ci giochi Perché da come Sto capendo Qua bisogna Sbloccare giocando Poi ora Non so Lui a che livello Si sblocca In caso No Non è fredda Ancora Quasi Stava diventando Fredda Quasi Eh ragazzi Purtroppo oggi è stata Una giornata Movimentata Qua a casa Ho fatto diverse Mansioni Vabbè A parte lavorare Sinceramente Anche clip Di vecchi live Che Vedrò di riuscire A magari A caricare Stasera Nei social Dopo la live O se no Lo farò domani Mattina Ma Mansioni A casa Lavorazione Di clip Che ogni Singolo Video Non so Perché Questa Perché è Tanto lunga Non so Ma Si mette Mezz'ora A finire Di esportare Un video Ovviamente Si parla Delle Delle clip Delle live Intere Quindi la live Intera Perché se faccio Una cosa Di qualche Minuto Non ci mette Tanto Ma le live Gli altri Con i punti Che ti danno Giocano Giocando Aspetta Ok No Ne puoi Già sbloccare Uno In teoria E gli dice Recluta Eh ma ho provato Prima Mi dice Vuole Non so Tipo Crediti Non so Sblocca Gente Ora vediamo Nata Si perché Su Oggi Perché Ho detto Ah sto Questo Profile Sto Mi ispira Ho detto Però quando vado Su Recluta Mi dice Che mi fa Scegliere O tipo Non so se So punti E mi fa Per acquistare Con soldi Veri Tipo Mi da due Scelte Ma entrambe Non ne ho Quindi Se clicchi Sblocca Gente A sinistra Qua No Vedi qua mi fa Acquistare No Qua uguale Mi fa Di andare Sui soldi Veri Ma si Vuole Farti Acquistare I soldi Veri Non ho Non ho Possibilità Beh Magari Pieno Pieno Si sbloccheranno Tutti Dai Devi fare 15 livelli Poi ti dai Un agente Gratis E allora Forse Così Sarà Lo sblocchiamo Dopo Tanto Dovrò Un attimo Di capire Che abilità C'ha E come Funziona Olè Ho quasi finito Vi chiedo scusa Veramente Sblocchiamo 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 Omen Uno smoker Copre La visuale In dei punti Che dici Di tele Si teletrasporta Nelle vicinanze E accega Poi comunque Sono scritte Lì a destra Se vuoi avere Dettagli Più precisi Ah ok Quindi dovrebbe Essere forse Tipo un support Perché Detta così Mi sembra Quasi un support Poi non so Poi non so Vengono chiamati Smoker Qui Ah ok Non conosco La terminologia Smoker Però Sblocchiamo 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 Quello di un piste Vabbè ci sta Minchia io un piste Dovrei recuperarlo però A livello di visione di puntate Sono rimaste quelle che facevano in tv Invece c'è Killer Che è fan in un modo allucinante Gli episodi di questi ultimat Quelli da 1000 e passa Io sto indietro Se dovessi rimettermelo a guardare Non so quanto ho finito Sto a meno di 100 puntate Bene ho finito Grazie a tutti 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 basta finito basta a posto ci sono non sto messendo adesso però supporto qui direi non ci sono invece sono un paio se due tecnologie che mi hai detto non le conosco per esempio sembra brutto ma ok dai però qua ho succo ho succo e basta perché acqua è giù ma 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 ah vai via buffi ciao alla prossima grazie se sei passato grazie ancora per il tuo supporto e per la sub spero che poi sia una buona serata dai e allora ma qua per invitate come si fa ah invita penso sia così ok eeeh allora se vuoi che vengo su discord dimmelo eh o superfici fare senza discord a me non c'è problema sommus io cosa qua che mi sa che metto non a schermo intero perché mi sto finire sto a schermo intero ok allora ok allora adesso apro discord mmm intanto salgo spotify che mi occupa sullo spazio nella connessione allora allora sono su vogale uno sommus questo è il mio sì il mio quindi ok oh allora il mirino qua sarà dove forse reticolo vediamo un po eccolo qua rosa rosso ma che rosa mai mai nella vita ma allora in caso vai su un allenamento e vedi se non so con che mirini sei abituata io per esempio mi trovo bene con solo un puntino no a me se fosse qua così a croce mi sta bene sicuramente sui giochi uso quello più che altro quelli a pallino non mi ci trovo sempre no a me rosa io rosa non lo uso neanche come vestiario sono sincera quindi proprio per me aspetta del match for sale armi allenamento proprio qua aspetta che ah io intanto sono sul disco rim vocale quando ci sei dimmelo esatto teo hai detto la parola giusta e e e e guarda come scappano buonasera ciao buonasera ecco ti non si chiara buonasera gare buonasera a tutti come li chiami i riperini i riperini bravo se no gli scheletrini come preferisce il scheletrini buonasera a tutti come state allora ah io so bene appena finalmente di mangiare vabbè mai visto allora ecco per esempio la croce così la odio a me a me piace perché poi si muove quando spari troppo spessa ma io penso che va se ti trovi bene lo sede insomma che ti trovi bene poi lo puoi cambiare poi fai varie prove insomma vedi pure gli altri magari in partita se vedi qualcuno che ti piace questo giro mi è sfuggito anche la sensibilità è però è meglio con più o meno sensibilità ma adesso proverò poi quando giochiamo in caso allora che uscì qua adesso ehm esc rodellino in basso in alto e in alto a destra scusa ah ok è tutto è tutto qua unito ok aspetta che l'ego cosa ha detto te è il giorno che ti vediamo ok spesso l'ho letto prima ah ecco qua ecco se siamo scheletrini mangio per compensare un po' giustamente allora quando vuoi dimmi tu se voglio fare non competitiva rapida deathmash penso che non so se a squadra o ah c'è tutto a due sia tutti contro tutti che a squadra ok l'unica cosa non possiamo farla competitiva perché devi essere livello 20 però meglio perché tanto sennò ci spacca eh sì tanto qui random vabbè mi immagino mi immagino mannaggia partita trovata ah l'home non ci l'hai bloccato quindi no per adesso no che è successo ah qua non possiamo scegliere il personaggio ok ok eh mi sa di no sì perché non è uscito il sì no no perché non c'è so le abilità qua è solo sparare con vici le armi oh so ben entrata che cazzo ecco la pistoletta non vai tanto lontano premi il b premi il b ti dà lo schiava delle armi allora non lo so che c'è chi no 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 o se no a questo sì dai ma io qua mi sono persa però dove cacchio io sto state ah di là vabbè ci ho provato eh all'inizio sarà un giusto non riuscire a fare niente normale dominazione eh questo è già è meglio oh chi è vogliono combattere chi siamo noi per negarglielo combattete inizia la caccia porco giuda dove era non l'ho vista ma che cacchio sorry ah quella si è stato tu sì quello sì era una chiccosis succosa non me la potevo lasciare subito ma dio profilo a farne una rosa della spazia normalissimo so quei giochi ci vuole un po di tempo prima che capisci qualcosa va bene star ma non fa per me ho capito ah beh questa è questa sì che mi diverto in gioco non lo spara tutto tattico anche i passi fanno tanto sentire il rumore dei passi dei avversari con shift ad esempio vai piano cammini è ma in deathmatch diciamo non serve tanto se corrono dominazione o mi sento circondata mi sento un tantino circondata cacchio non la posso usare questa no ma è madonna roberto è entrata è un po' cavo di go del deathmatch è vedo vedo è boni chi è eh niente mi sa che l'altro è in ca qua c'è qualcuno quando riappari vedi i punti rossi sulla mappa come? quando riappari dopo che sei morta vedi i punti rossi sulla mappa ma si ciao suncar buonasera grazie per il ride come stai è stato affa di bello ooooh madonna oh buon calmo ecco grazie vix e gli ho fatto subito il so oh oh ho fatto una kill nice almeno una sono riuscita a farla dai dieci uccisioni rimaste oh 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 eh vabbè ci ho provato qua c'è qualcuno eh sì senti i passetti chiunque prendete eccoti io ma cinque uccisioni rimaste io bene tu come stai mi sa che sto in mezzo a un campo minato perfetto ho ammazzato uno che ha ammazzato l'altro vabbè il trenino ok oh 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 eh che ca mi ha preso allora decisione rimasta a sto punto eh no t'ho visto non so chi sei ma t'ho visto confitto che ca io bene tu sanagar non so se mi hai sentito titolo benvenuto oh poi equipaggiamo partita rapida mismatch a squadre non competitiva o partita rapida o non competitiva partita rapida allora dai partita rapida sarebbe non competitiva però con meno round ah ecco almeno te rendi conto vedi il gioco vero qual è ah ok ora ho capito qual è diciamo siamo due squadre un attacco una difende poi a metà partita si cambiano i ruoli ci sono dei site a b a volte pure c e si deve decidere dove piazzare la bomba mmm pessima mappa troppo caotica no poi non mi piace è troppo dispersiva oddio mo che scelgo qua allora phoenix non so se leggi i nomi si lì in alto a destra si phoenix due list cioè in attacco flash acce che nemici e para palle di fuoco e invece quella vicino è il curatore cura e risuscita ok questo qua invece penso che sia combattivo sempre quello è più sì per spot i nemici diciamo dire delle frecce che spot i nemici questo qua invece non me lo ricordo proprio quello è uno smoker vabbè proviamo così vediamo come omen ma omen è più mi piace di più perché c'è il teletrasporto e infatti stavo provando anche l'abilità prima quando c'era l'allenamento è un altro tipo di smoker però e ora proviamo un po' eh c'è di là in squadra e di là nell'altra squadra il personaggio eh sì c'è pure i livelli altini mh 64 noi abbiamo 132-108 dai speriamo bene io sono quella più bassa in mezzo cazzerola eh che regalo fantastico allora inizio del round se non puoi le armi è un gioco in cui bisogna pure fare economia nel senso a volte devi sacrificare un round per comprare l'arma buona il round dopo poi valutite facendo le cose durante il round danno dei soldi per il prossimo round più cose fai utili diciamo più soldi a il round dopo ah ok qua non puoi come non puoi prendere subito l'armi qua bisogna fa no il primo round è sempre di pistola ok perché nessuno c'è soldi si gioca molto di shift anche se ecco poi quei random corrono quindi inutile oh oh eh siamo in attacco per cui devo aspettare per blocco visione ah no sono proprio morta mi sa quindi non c'è neanche il ritorno no qua meno che non c'è il curatore con l'ultimo che ti risuscita annaggia sono solo batterie e ha messo questa sarebbe la spike quella che dobbiamo plantare sul sito a ob ok generalmente noi stiamo in attacco quindi generalmente se scegliere un site a ob e se va o tutti insieme o se fanno strategie magari uno li distrae su A facendo ricrede che stiamo lì e poi poi piantiamo su C oppure qualcuno va al centro flanca insomma però generalmente quello che dobbiamo fare sapere che lo sai tezza la bomba i nemici sicuramente stanno divisi e chi ci è spotta prima chiama gli altri ecco oh ma che cazzo spike a terra in me che ho fatto qua entrambi ci siamo allineati minca finisce un sogno ne inizia un'altra adesso si può iniziare a giocare con le aree vado in A proviamo a andare su A ole la loro paura li tradisce questa è tutta in là venite no dovete al centro ok andiamo al centro oh dove sei dove sei piazza la spike qua qua entrare qua oh porca spike a terra al centro giù la testa l'ultimo giocatore è rimasto madonna visione bloccata niente niente questa squadra c'ha fatto il fulo anche questo giro non c'è niente entrare il site ultimo round alla fine del tempo se avete risparmiato spendete no è solo un grande caos questa squadra perché tutti corrono ognuno fa per cavoli suoi sì sì ma ma qua venite su a venire qua eh purtroppo qui random è così se c'è una squadra da cinque leggiamo imparavi in un attimo ma qua ognuno fa il cavolo che gli pare corrono gliela stanno a fare un casino non so cosa ma sparato addosso che non vedo il più niente il rastordito ok pranto adesso dobbiamo difendere oh oh ma è uno ma parca troia qualcuno c'è il cecchino oh men il prossimo manca un solo nemico eh porco misario granata perfetto un round ce lo siamo portati a casa cambio posizioni adesso abbiamo cambiato adesso ne siamo in difesa c'è ancora parecchio loro tenteranno dentro al suo subì a piazza la spike e noi lo dobbiamo vedere esatto tu all'inizio del round oltre le armi sotto puoi comprare anche le abilità e infatti stavo vedendo che l'ho prese c'è un po' fa la mano leggi te le vedi che fanno per esempio adesso che stiamo in difesa sarebbe buona la smoke lì per l'entrata e la 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 terza dovrebbe essere no eh non so pratico i smoker non li prendo mai guarda impara una di quelle si dovrebbe essere o la fula e da lì lì sono entrati cazzo là non mi dica non so se c'è a tirarla ma addio spike a terra in a buonanotte manca un solo nemico sta a rezzo per esempio questa qua questa guarda sta a fare un casino vedi che corre si fa sentire la spike sta là quindi i nemici per vincentoria devono solo prenderla quindi noi due contro uno dovremmo solo stargli aspettacativa appena arriva di sparare ultimo giocatore rimasto oppure ecco prende tempo fa passare tutto il tempo in modo che non riesci a pentale se finisce il tempo i 40 secondi vinciamo lo stesso se non l'hanno piazzato 30 secondi rimasti alle tremeranno al freddo e al buio anche lo scudo esatto è fondamentale eh infatti l'avevo preso per questo magari diciamo come consiglio la prima cosa da fare trova l'arma che piace di più che piace trovi meglio eh quello dovrò provare un po' perché non sono tanto così io sono più da mitraglie leggere eh no mi fate un po' di prova è normale ci vuole un po' di tempo ultima non pronta quello è le abilità dei personaggi poi il resto piano piano e impara facilmente vai subito hanno piazzato però eh qualcuno mi ha sparato non so dove energetico qui ultimo giocatore rimasto perfetto che cazzo match point ok mi rimangono solo 78 granate speriamo che bastino non so Non so, non so. Non so. Forza! ok stanley e ho visto madonna o posto cecchino delle squadre totalmente squilibrate spike piazzata dove siete una storia degli attaccati o meglio così meglio così stava paio lodi diciamo che non è che puntiamo a vincere stasera no best sera è impossibile permesso dare impossibile non ha solo per conosce il gioco ok web sparta un buona sera ma non vorrei che mi mette ecco punto non competitivo hai detto di no vero mi sa ah sì sì per me la possono fare la rapida però con più round adesso devo provare un attimo 13 round vinti eh le partite normali sono lunghine questo è la mappa eh questa non mi dispiace no proviamo con lui ci penso io oh grandissima ha preso il curatore grande io ho la quarta abilità quella ultima no 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 il primo allo sage sì sì quello è un altro eh sparta mannaggia ho smetto il bestemmere per un'ora cacchio mannaggia ovviamente c'abbiamo la mappa buona l'healer l'ultimo non sceglierà ci farà saltare tutto addirittura eh non sta scegliendo l'ultimo maledetti ma perché sta discorso eh o è andato fk o non lo so mannaggia battita trovata eh se beccherà la penalità sì sì sparta perché mi vuoi bene sì sì porco giuda c'è la stessa mappa incredibile mettetevi comodi ci penso io mi sembra quello dei fantastici quattro la torcia umana sì ok quello non prende lì lo prendo io miller in squadra serve sempre parta detto questo non sceglieva perché il personaggio che voleva era stato già preso ragazzi eh lo fanno a volte se picchi il personaggio che vogliono no quando si può, ho detto augmente se non lo faccio lo fanno i miei bimbo minchia ma non lo faccio ma alcune frasi se ben che son gamer non le non le conosco sopra brutto ma oppure credo eh sono andato per intuido eh io invece sul pezzo ok ok no io alcune terminologie non le conosco altre si ma alcune non tanto salta fuori come quella di stare da tu che ho detto aspetta ma cosa vuol dire non so il significato siamo anziani siamo boomer noi ormai annaggia qualcuno c'è un scaldapizzetta al posto del modem si purtroppo carica tutti alla velocità di quello che c'è la connessione più lenta ah sì bene quindi faccio prima andarmi a fare un aperitivo nel frattempo eh boh eh mentre che qualcuno sta connesso dal deserto mannaggia sta mettere un po' tanto a carica eh ma infatti boh scherziamo ma esistono sono davvero fastidiosi salve ricarico salve mi dispiace fantastico non è più veloce dal deserto detto sparta è più veloce rispetto a cosa ricarico ha detto non è più veloce dal deserto eh non è più veloce rispetto a chi è di bellberg stanno qua stanno qua li sento preso eh ma è un culato spike a terra al centro qui sorveglio qui minchia due contro due cacchio eh non sentite da dove arriveranno ecco diversi nemici nella base difensori manca un solo nemico spartano ha scritto non ho detto che non ho detto che il caricamento era più veloce del deserto dal deserto non so se ora l'hai capita no così no così non capisco tarnaggia rispetto a uno che è più veloce dal deserto rispetto a uno che sta sotto il mare non so non so stanno qua eh su B eh sto andando anch'io ma ho paura che se vado mi fanno fuori però ma porco giuda ultimo giocatore rimasto è rimasto da solo contro tutti sì e cazzo la mia uffa è piazzata via il muro ciao muro di tossine questo qua mi sa che è bravino via il muro ormai non fa in tempo senti sto suono e la bomba che sta verso muro di tossine ah grazie quando la bomba esplode vincono loro sono solo inutili moscerini noi dobbiamo tentare o di non fargliela piazzare prima di aver scaduto il tempo o di uccidere tutti oppure di si ne scalla prima della fine del tempo una volta che l'hanno versata qualcuno può farmi credito? per favore no mi dispiace teniamoli a bada eh hai combattuto bene attenzione controllo dietro oh oh sento li sento da qua ok dove saranno gli ultimi due stanno a far giro sono andati subito a piazzare shift shift per non fare rumore proviamoci le saranno piazzati i punti dati ok ok qua ha messo il muro stanno tutte e due all'insight tocca sbrigasse manca un solo nemico non guardate la mia ultima è pronta in alto non morirò ok forse facciamo pure in tempo oddio per poco oh mamma mia che paura devo fare questo io salve per un secondo abbiamo disinnescato e direi bravi 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 118 da faccina 118 da faccina 118 stanno qua su bm stanno qua su bm e porca troia stanno a switch a il mio territorio le mie regole ah non push a nu eh ma un pregato dobbiamo aspettare che vengono sul site che piazzano per cui mi serve le push a stanno in da sua fai che piazzata l'ultimo giocatore rimasto che cazzo ehm non posso far tanto stava da sola? c'è bro ecco lì ecco ci ho fatta momento a no no abbiamo vinto abbiamo vinto ho disinnescato il fan io lo sapevo già ah basta disinneschi la bomba quindi si si qui ah sto col cecchino ciao è sul secco il cecchino il mid è buono qua perché spesso si mettono qua ehi doppione scusa in anticipo qui qui mi stanno ordinando dove mettermi no 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 l'ho segnato che stanno quando vado a vincere è sul mid siamo io e te no salve stanno qua hanno rotto il muro veramente stanno qua non posso non posso non posso siamo troppo bravi sì allora l'operator di cecchino quello che costa 4.700 è one shot praticamente dove li prendi li prendi li uccidi questo qua no quello che costa 4.700 ah ok devo vedere quella perché non lo so sembra quasi già veniva quello sotto di questo sulla ma sulla tabella e se tu vedi quando selezioni l'arma a destra ti dici i danni che fa e calcolare il massimo di hp a 150 e che 100 più 50 di scudo e quello leva a 150 e la bestia è scatenata stanno sua per corre veloce il cortello quella guarda io guarda non uscire non uscire ai miei alleati diversi nemici al centro ricarico lasciateci il suo compito non è finito caro suscitato bastardo si sta affatto a tutti col cecchino grande potete scordarvi che pulisca io pronti per uno spettacolo di luci no l'ho capita adesso la cosa del deserto più veloce del deserto rispetto a dove stava quello connesso nella tempesta combatto fate attenzione lì sentire cercare rompe il muro non sfondano entrando acqua col cecchino te consiglio di mettere là dietro qua indietro è già con me ricarico stai sci qua no no che pensate si no saranno andata su a sicuramente fate casino qui piano 30 secondi rimasti niente questa va a casa eccoli nemici e porca troia attenzione spike piazzare bravo bravo sì scusa non l'ho preso un solo nemico va bene gli ho fatto perde tempo da dove viene del mio territorio le mie regole cazzo m'ho preso questo è l'ultimo è l'ultimo di questo personaggio la vuoi bloccato solo se siete in due c'è un altro che te spara quando tacchiato questi nuovi amici non sono poi così amichevoli abbiamo provato per poco stiamo comunque 5 a 2 ci manca poco stanno qua su B qui aiuto 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 nemico in A nemico avvistato al centro c'è qualcuno qui di nuovo in polvo nemico avvistato al centro nemico avvistato in D ricarico servono rinforzi ricarica ricarica c'è due proiettici attenzione premier premier 30 secondi rimasti qui eccola si arriva ma non ti mette davanti a quello dietro perfetto bravi ok ok bravissimo un proiettile per nemico dovrebbe bastare ciao orise benvenuto grazie per il follow come stai andiamo e andiamo quanto dei passi sono tutti mid sua fanno da tua siamo io e te quella l'ultima è uno dei nemici che ha preso il compagno nostro amore sta una sfida e ha vinto ma era dietro bene un po' di riflessi avanti eh cacchi mi dismiace eh gira un po' di influenza sto periodo col freddo oh c'ho l'ultima posso usare l'ultima l'ulti ah l'ulti tua dove la usi ti segna quel punto tu vai avanti e sei praticamente non è mortale però resi usci di subito appunto dove hai usato l'ultima quindi puoi usare per lasciare c'è due vite l'ultima l'ultima attenzione l'ultima l'ultima mi ha preso oltre il muro mi ha preso oltre il muro ah io tutto è bene qua stasera stiamo giocando a Valorant in caso ci gioca anche lei può venire a giocare anche lei non c'è problema stasera gioco per la seconda prima volta dopo tempo nooo sento i passi forse sono loro si siamo noi stanno là vado a mettere il muro eh porca troia ci hai provato mi sa che sono a spada da qualche altra parte la speck in teoria stava là io ero uscito questo non è finito ah no ultimo giocatore rimasto no ah ok ti do del tubo va bene dai eh guarda non sono forte neanche io sinceramente sto continuando solo a perdere la vita qua sul gioco quindi risa non ti preoccupare è una serata conoscitiva siamo io e te esatto meno tre trenta secondi rimasti dove stanno i due simpaticoni all'inizio ero uguale e allora mi puoi capire dai risa aspetta che metto una cosa che devo mettere già prima ma dieci secondi rimasti salve spike piazzata ok piazzata su su b c'è uno che sta a correre qua l'altro sta su b qua spike sei rimasto solo due contro due e cacchio niente devo lasciare se no non c'è tempo manca un solo nemico guarda che mi sa che c'è qualcuno che si sta avvicinando si non avrei avuto tempo sono stati bravi uno è rimasto un casino e l'altro è andato subito la bomba piazzata spendiamo tutto sto risparmiando oh caro ti invitiamo in squadra appena finita yes almeno gente molto meglio anche se devo dire non è male questa come squadra sì no non è malaccio no no non fanno tanto casino sbagliato eh no ma è stato il mio territorio le mie regole i round siamo madonna mh spike a terra in B ultimo giocatore rimasto 7 a 5 per noi cambio posizioni anche così può ancora accadere di tutto ricordate ah beh adesso dobbiamo fare adesso se è invertita la situazione noi stiamo in attacco dobbiamo entrare in un site piazza la bomba e sarà più difficile peggio che peggio allora eh sì su sta mappa è un po' più facile difende no andiamo cattivi tutti qua subì senza pietà cosa Spartan cosa ho detto che non va adesso eeeh eeeh ultimo giocatore rimasto spike a terra in B in teore fino a quanto bisogna arrivare qua per vincere una delle due squadre 10 se mi vedete sorridere 13 intendetemi quindi prendo tutto il punto se non sono i miei aperti specialmente quando so tirare come questa sette a sette ok vado in c salve ma perchè non cambia la schifo pistola ahahahahahahahahah comunque dai riservi fra un po' finiamo eeeh intanto non mandalo la richiesta poi mmm mmm attenzione brutta situazione non guardate fine dei giochi ahhh porca troia ripiazza la spike via il muro ma ce la possiamo fare se difendiamo bene spike ha un solo nemico mi ha vinto noi si moriranno una di assoluta disperazione ok perfetto ok perfetto io a volte gioco un round da voltoio che magari risparmio prendo tengo la pistola aspetto il primo che muore gli rubo l'arma e poi se comunque muoio quel round ho i soldi il round dopo per comprarmi l'arma forte il primo che trovo e ogni tanto si bisogna fare ecco hai da spike ehm quando sta in site per piantarla a 4 ricarico cosa stai una sparà eh dal muro dietro il muro attenzione ricarico ricarico nonno in alto ricarico disi ha un versat ricarico ricarico no ultimo oh porca puttana lo stesso da spuntare dall'altro lato si vi ha fatto il giro dietro manca un solo nemico bravo trash è pronta Vi conviene stare al passo? Sì Ciao XLG God, ok Benvenuto, grazie per il follow, come stai? No, la pistola no Con il tasto destro puoi richiedere l'arma, eh Se qualcuno della squadra c'ha soldi te la compro Ah Io bene, dai Io sto bene Qualcuno mi spari Dove, 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 dove? Eh no, no, troppo tanto Vai per metto a sparo Ehi Ricarico Da Beh, attenta dietro, eh Guarda dietro Vabbè che non vengono qua Oh Porco e due Sfiga Passimo timing Sfortunato Ehi, la bestia è scatenata Sono stata sforzionata all'estremo Mi stavo girando in quel momento esatto Se è passato No, ma c'è sta, c'è sta Quante sfiga Se dovete cadere Fatelo vicino a me No Grazie No Quale cazzo era Che ho preso prima Arma qui Mi sa questa, forse Ti chiamo God Comunque Faccio prima Se non ti dispiace Ah, ok Solo God A posto No, è che non so come pronunciare il tuo nome Sono sincera Sono un po' Inganatrice uccisa Li acceco Ecco il nemico Non guardate Flash Quando ti ha il flash Accegli i nemici Quindi se c'è qualcuno Entri subito e li uccidi Ah, ok Ah, perché non avevo la possibilità di scegliere un altro nick Ho capito L'hanno già preso quello Oh, porca Manca un solo nemico La mia ultima è pronta Teresa Scilova Non mettetevi in me Il tuo compito non è finito Ehi Lo sai fare anche tu E dai, forza La mia ultima è pronta La protattica ha fallito Salve Si torna a combattere Dunque lo stato Se ti uccidevano Riapparivi lì in quel punto Luminoso Eh, ho visto infatti che E poi Appena Appena La proverò Teniamoli sotto Per il round E ci lo siamo portati a casa E quella creaturia Che ha lanciato lui Che c'è il compagno Ma non ha battuto Fa varie cose Siamo io e te A terra Ricarico Qualcuno coprà dietro Oh, porca miseria Non c'è tutto Madonna Procede bene Bene, bene, bene Dai, procede bene, dai Annaggia Vabbè, adesso stiamo vincendo noi Però Io continuo A cadere per terra Faccio da cavia Stasera Sento che scappano È un gioco grande Con tante mappe Tanti personaggi Tante abilità Ci vuole Ci vuole Qualcuno può farmi credito Per favore? Grazie Io Il primo mese Che ho giocato Non ci ho credito niente Vabbè Oh, chi è? Oh, pera Ehi, ehi, ehi Chi è che mi ha sparato? Mo Dal muro C'è sempre qualcuno Lì al muro Ah Spy che a terra in B Minchia Ricarico I miei alleati Mi c'hanno resuscitato qualcuno Eh, me so Sì, sì Quando senti quella voce Via il muro L'ho chiusa fuori Via il muro 30 secondi Rimasti Ah, cacchio No Peccato Ma è strato Vado in Direi Scusate È una cosa tra noi C'è stato Aspetta tutti lì Su B Perché andiamo Sperla Andiamo su Siamo a 11 contro 8 Punti Due round Venti Si spera Abbiamo finito Sosterrò il cielo Sì Qui Qui Ricarico Spike a terra In alto Attenzione Lì Ne ho mostrato uno Che fanculo Alleluia No 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 Punti 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 Quando corri Con la mili di un po' più alto Campospezza La testa La sparta La sparta Fa festa Quando corri Che consiglio Senza zoom Porca troia Secondi rimasti Spike a terra In alto Uno contro uno Uno contro uno Inizio Gioca sul tempo Potrebbe vincere A posto Dai Un round Match point È il momento Dei saluti E' il momento Eliminiamoli E' il modo che facciamo si aspetteranno su Waw su B Come te la sentite Ma sto personaggio non è che mi ci trovo tanto sinceramente Ho un chance Però adesso Non piace neanche a me Dove hai provare altri Eh porca Quella con le bombe Come abilità c'è la finale Bombe più classico Presa Ha preso Presa La mia ultima è pronta Bravissima Siamo io e te T'ha preso Siete uno contro uno Nooo Il problema delle armi De sto cazzo di gioco Come vedi È che sfarfallano un botto In genere Io M'abbasso Mentre sparo M'abbasso Premo Il tasto E' un po' più preciso Sparo più Precio Più fermo O se no Con l'odin Quell'arma Che c'avevi Mentre sparo Abbasso leggermente il mouse Perché tende ad alzarsi Quell'arma Via il muro Vabbè un po' Alla volta Ora prenderò Prenderò mano Dai Sì Tante informazioni Tutte insieme Eh lo so Quelle che mi vengono in mente Da spiegate Sono stamente tante Che piano piano Mi vengono in mente La mia ultima Non è pronta Nuovo scontro Nuova tattica Cerchiamo di innovarci Ok Eeeh Qualcuno può farmi credito Per favore Ti anche Anche non sparare Grazie Magari Alzi il dito Dal mouse Ripremi Perché più Teni premuto Più sfarfalla Però non è facile Anche perché nel mentre Magari devi schivare Che quello che spara Mentre ti alzi il dito Ci vuole pratica Come tutto Aia che cazzo Spike a terra Se qualcuno spara Mi salva Eh no Sono girato l'altro È tutto nelle tue mani Tutto bene a terra Trash Spike a terra In B Oh cazzo Eh no Niente Erano 50 Chi morirà Sfissiato per primo Sfissiato per primo Come spacco Oh 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 Shift Shift Andiamo piano Hanno sentito? Sì Sì C'è uno là Niente Però è andata al centro È stata al centro Preso 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 Non so che fa Aspetta ti cura Antaglio Ma fate una scoperta io Vai sembra lì Eh mi ha ammazzato a qualcuno Ce n'è uno lì e una a sinistra Ricarica Attenzione In alto Non mettetevi in mezzo Li acceco Non guardate Manca un solo nemico Bravissimi 30 secondi rimasti No Abbiamo vinto Vittoria degli attaccanti GG Avevo appena iniziato a scaldarmi Va bene Vicks Non ti preoccupare Ci becchiamo domani con Domani con Warfair Sì domani è sabato Poi mi spieghi quel discorso Con calma Ok Dopo c'è questo Poi c'è il coso gratuito Ok Rizè se ci sei Ti Ti muoniamo nel gruppo Ok Oppela Mi sembra il nome Come quello Twitch Asterisco Di 3 0 Sì L'ho aggiunto Ho provato In match a squadra Che sto curiosa Vai Vai Vedete cosa Salta fuori Stasera Dove ho qua Per imparare Abbiamo tutte le modalità Così Sì sì No Esatto Una vale l'altra Al momento Gli prende confidenza Con armi Abilità Per cui Va bene tutto Partita trovata Piazza Stavo per leggere pizza Io Non chiedetevi il perché Quella è quella delle bombe Questa Ok Non ce l'ho sbloccata Sorry Non ce l'ho sbloccata Vabbè prendo questa qua dai Quella Scatta veloce Fa Le nuvole di fumo E che altro faceva Saltava Salta in alto Salta e plana Lo sappiamo il perché Ho so detto che non va Adesso Teo Perché hai letto pizza Vabbè perché ho sempre fame Mi piace mangiare Eh vabbè dettagli C'è 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 Un Non so se conosci Somos Five Nights Freddy Che hanno fatto anche il film Di recente Conosco vagamente il gioco Ok C'è L'animatrono Quello lì Da Cica La paperella Tipo Il pulcino No Non ce l'ho presente Vabbè è un animatronix Che presenta tutto un uccellino giallo Ok C'è il meme Perché praticamente Si chiama Cica Fa Pizza 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 Perché è amante della pizza Quindi ogni volta Pizza 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 E' già il mio personaggio preferito Pizza 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 Eh Kawaii no Però Aspetta che non ho preso l'arma Qua sceglie Le armi però non te le da subito Devi fare un po' di kill Avanti Esci Ammazza qualcosa Oh mamma mia Pure cacciata Di cattiveria Che cazzo Si beh La visione l'ho bloccata a me però Porca troia Eh niente Allora con la C Blocca la visione Va bene Basta così E che cacca Oh finalmente l'arma che volevo Che madonna E madonna 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 Sì, non c'è! Prende la scuola E non vedo un caschio ma non ho scegato La bizza è finita ma come la bizza è finita ma no Madonna Il mio territorio le mie regole Il mio territorio le mie regole Il mio territorio le mie regole Tre per me Granata Un sacchino Il mio territorio le mie regole Il mio territorio le mie regole Il mio territorio le mie regole Vinto Abbiamo vinto Bravi bravi Siamo scesi in piazza e abbiamo vinto Arrivo subito Un sacchino Il mio territorio le mie regole Il mio territorio le mie regole Ecco Ok Ok Ma 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 Dovevo vendigli la folletta Ma come vendigli la folletta Ma no Ciao Oh Ophela Partita trovata Ma dopo una cosa arriva in Oh A presto. ovunque essi vadano posso mangiare almeno questo o mi smentite subito dai io faccio il bravo magari forse il bravo non sto tanto sicura di spartan qualcuno ha scritto please facciamo una normal che devo andare dopo quindi dovremmo uscire eh sì tanto non ha preso cifo scena automatico una normal non competitiva credo intendo una partita rapida mi sento quasi di peso stasera al livello 4 ho detto subito che la prima sera lo dirai bestemmere contro perché no non è quello è il discorso che cacchi non riesco a fare per quello per quello perché ricordo i primi giorni non riuscivo a fare niente non c'è capito niente mi hanno costretto però incitato a giocare gli amici alla fine poi mi sono appassionato mi è piaciuto però i primi giorni era un incubo ebbè no da stavolta il medico non mi vuole questo ci prendiamo la tua colazione di un pizzo no tra l'altro hanno fatto bene perché alla fine mi piace mi sono appassionato se no la dico anche ora peggiore hai una moto? no adesso ti prendiamo la moto se non giochi solo la macchina e quella sarebbe un grande tanto niente a qualcuno non piaceva non mi piaceva il campo quello è questo mo? questo è uno dei primi non è male li troverò ovunque essi vadano giustamente nessun healer no 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 Io non chiedo cosa stai mangiando perché mi sembra una cosa golosa Se lo scopro poi mi viene fatto Se guardi il live ora capisci cosa sto mangiando Nutella quant'è buona Devo dire una cosa La i kinderini li hai mai visti? E' una roba nuova che è uscita adesso No, se uniamo le forze sova Non sono buonissimi nel latte Sarà divertente Inverini Mi sa che abbiamo beccato squadra Inglese Se sono molesti da premieresk i disattivi In certo vocale Non lo faccio prima guarda Inazione preventiva E' un b In vicino ognuno lì C'è il locale vicino a segnala L'aria da spunto Tolto, tolto No, no Già me basta su code quello che combinano Non ne voglio sapere Nemico in A C'è qualcuno in B Visione bloccata Eh già Visi del nulla Nemico di stato in A Umogeno pronto Vola Chi pensa wingman a piazzare Spike piazzata Grazie wingman Dretto in testa Trollo più avanti Trovate Ma Sta sopra Tutto il tempo del mondo Due contro uno Eeeh Che No no va bene Va bene Gli avete fatto perdere tempo Abbiamo un interround L'ho sulla bomba Questo è uno sparatutto tattico A volte più importante Ecco Magari fa perdere tempo Che la kill Non bisogna puntare sempre solo sulle kill Mi hanno fatto un cartellino rossa Lol Ricarico Silenzio Silenzio Usate shift Ci si vede Fastidio Ricarico Spike a terra Notevole Bene Ci siamo arrivati Noi due Piano Sto con la Manca un solo nemico Ultimo giocatore Sto con la Ultimo giocatore rimasto Questa spot No 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 Se tu uccides Se la dia in mano Lanciala dentro Lanciala dentro Rivelo l'area Sta dentro A quella porta a destra Però l'ha sentito Sto giù 30 secondi rimasti Qua? Sì Eh porca troia Eh ma ho fregato Talmente mi sono Vedi Pronto a spiegare le ali Allora Che arma posso prendere? Niente Benissimo Andiamo su B Vado in B Hola Occhi sul bersaglio Niente Sto di rispondere Lancia un fumogeno Rivelo l'area Tu ho avvistato in A Eccoli Spike a terra In B Buonanotte Eh stanno sicuramente tutti intorno alla Spike Oh uno sta sotto Sopra appena No la gira Sopra Sopra Sinistra Dietro Lì sopra Quelle cose Dietro Donna da lui però Eh sì Fuori tre Qua 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 vai Manca un solo nemico E fuori quattro Ultima pronta Trenta secondi rimasti Brucia Nemico avvistato in B Oh Ultimo giocatore Porca miseria Peccato Ehi piccoletto Dacci la carica Sentiamo Ma Silenzio Bromantile Shift E' difficile E' stato in tuo passo Sì sì Stavamo a fare un casino davvero Spondente entramo Che ti ho destrato Piazza la Spike E porca miseria Manca un solo nemico A posto Scusa se non mi dispiace Bello vero? E adesso Rifacciamolo Ah ok Vittoria degli attaccanti Sul due pari Qualcun altro a pulire Non mi occupo di spazzare Va bene Va bene Tranquillo Dai Riese Che becchiamo la passione Non ti preoccupare Ok Ciao Alla prossima Anche a te Mi dice Usare il gettone gratuito Per Sbloccare un agente Lo sblocchiamo Leggi l'abilità Aspetta Il sicurezzo Allora Andiamo un po' E questo non serve male Se attraversa anche i muri Quello nebbia cieca Tutti i nemici Che stanno nei paraggi Molto buono Questa sarebbe la smoke Quella che da mette alle entrate Magari Quando stai In atta In difesa È una sfera Oscura Che blocca La visuale Sulle entrate O dove la piazzi E la x sarebbe l'ulti Quella che Carichi E l'omega Ok Facciamo questa Così intanto Provo anche le abilità Di lui Con la scusa Yes Madonna che frega Partita trovata Io sono l'alfa E l'omega E l'omega Ma ciao Avete avuto problemi Con il teletrasporto? Hola Tanto per sentire qualcuno Benvenuti nel mio mondo Ciao Sevanowski Buonasera Salute Si Vi troverò Uno Marcato Si 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 Mi 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 A Mi Mi Ti ho scegati Mi ha fatto fare una ghiera Poi, ti ho scegati Ehhh Preso Oggi Valorant, si, stavano sti Come stai? Ehhh Ehh manco volato Sottoterra Dove siete? Non siamo pronti Uno marcado Trecisecondi, cambia di fase Ricarico Prima divisione Soste così No, senti Ehi Ehi Ah, sei pigiamato Ebbè dai, almeno se sta caldo Stefanoski Ehi A competente Ehi Un attimo Madonna che cazzo Eh ma che cazzo Affrontatele Vi troverò A nienta la sua mente Oh ne ho massati un po' però eh Stai migliorando a vista dolce Nemico a terra Guardate qua Eh ma fregato Aspetta che gli faccio Il so a Stefanowski Che il mod è dato a nanna Non dovresti essere da un'altra parte Tipo Non qui Oh Ma come mi va Ma no Eh ne ho preso uno E l'altro mi ha scappato Fatto fatto E vaffan Oh Spera 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 A Fucker Spera 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 a accecati e la tua figlia ora va creante 94 99 per poco eeeh 5 kill ne ho fatta una soltanto eeeh 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 118 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 Io bene Blast, tu? Io faccio questa, poi per oggi... basta Valorant Ma stai tranquillo, tanto poi possiamo giocare altre volte, tranquillamente Ah, quando vuoi, quando vuoi Ma è in India che è freddo Eh, non so lì, ma qua domani mette ancora più freddo Eh, ma io ho sentito che hanno messo anche neve, tipo Ah Non lo so E lì siete abituati alla neve? E qua, allora io no, perché stanno giù di Roma A me la neve è capitata veramente, ma veramente raramente Sì, diciamo, non capita spesso qua E invece qua dove sto in Veneto dicono che una volta ha nevigato ad aprile Quindi non so Non so, guarda, non so Però in inverno generalmente nevica? Ma oddio Più che neve ho visto ghiaccio, però Neve l'ho vista una volta forse, però non Quindi non so, attrezzatissime cariche per la neve Se nevica magari fa casino Eh, Stefanoschi è stato a riuscire anche a Verona Eh, beh Ma io qua sto in provincia di Treviso, quindi Beh, si vedrà comunque San Giovanni Lupasoto Non conosco, però forse chiedo a Killer lo so Sì, ho il ragazzo che è Veneto, Stefanoschi Infatti per quello che ho appena detto Dovrei chiedere a lui Sicuramente lo conosce il posto Perché a Verona ci fa Più di una volta all'anno Perché ti fa delle visite mediche Quindi a Verona ci passa Sì che neve stiamo parlando Ah Sì che neve stiamo parlando Ah 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 Ma boh Ho perso la La pistoletta con il disegno De un manga Sì Si lo conosce al 100% È molto vicino E allora Sicuramente si lo chiedo Mi direi di sì Stefanoschi Bella da vedere Se sei in vacanza alla neve Altrimenti è una maledizione Ma io mi ricordo che una volta Dimmi, dimmi No, dico sì Sì, per i posti in cui non sono abituati Ogni volta che nevica Pure qua È un macello per le strade Ma io mi ricordo che Spike a terra in B Eh, lo ha ciecato ma Ma è un culato No, io mi ricordo che a Roma L'ultima volta che sono stata presente Che ha nevicato Che io andavo ancora a scuola Andavo all'istituto D'arte Ma io ricordo che quella mattina Avevo preso il pullman Da sotto casa Perché dicevo il pullman Alla fermata del pullman sotto casa Quindi io come scendevo Avevo il pullman Eh Avevo preso il pullman Per andare a scuola Quella mattina Ma il pullman Mi ha fatto arrivare un'ora dopo Perché c'era talmente tanta Di quel ghiaccio Neve per le strade Che camminava proprio lento Eh Non era fattibile Proprio 2012 Può darsi Mi sembra qua Unicate grandi Ha fatto 2012 E 2016 Vogliamo Ricarico Ti curo Le ombre vadano Lì a cieco Sotterrato La preda Manca un solo nemico 3 su 5 Salve Spike piazzata Riparo in arrivo Per te Per te E' un giocatore solo Sì Neanche ci prova Secondo Attenzione C'è qualcuno Perfetto Sì Stava subito Avanti Ribattiamo il risultato Eh beh Immagino Sì Che se non si è abitato Sì E' fastidioso Karma Qui Bello Abbattiamo i loro muri Un saluto Un saluto Feloce Carla Buon prossimo Mento di serata Ah blast Vai via Buona serata Anche a te Allora Grazie a essere passato Comunque Un saluto Nemico avvistato In A Il portatore è morto Spike a terra In A Cazzo Cazzo Brava Eh ma la cerchiamo È una cerchiata Erano troppi Ora non cisi Quanti tre Siamo valori Eh ma non ha cercato Siamo fieri Sì Fin troppo abituato Cancello Bloccato Strada Ghiacciate Circulazione Impossibile No grazie Eh Teo Mannaggia Non possiamo comandare Il tempo Purtroppo Teo Ricarico Cambi tutto E a cieco Attenzione Cervello Una a terra C'è qualcuno In A E una Vada C'è qualcuno C'è qualcuno